Ciao amici del convento, siamo qua questa sera con tantissimi nubilati, celibati, compleanni e anche un matrimonio che più tardi scopriremo insieme. Adesso andiamo a scoprire la prima sposa che è arrivata stasera a festeggiare il suo addio nubilato, lei è già in postazione sopra di me e la conosciamo con gli amici a casa del convento. Adesso guardiamo se lei si gira verso di me e conosciamo la sposa. Vieni qua vicino a me, ciao, il tuo nome? Ciao Cinzia. Ciao Cinzia, da dove vieni e con chi ti sposi? Seriate mi sposo con Angelux. Subito per te, sei pronta? Seria e concentrata. Un pregio e un difetto di Angelo? Non ho voglia mai di fare un cazzo a casa e un pregio è un amore, c'è sempre quando ho bisogno. Io ho un uccellino che mi ha detto che te sei già mamma, quindi diciamo che la vostra famiglia è già al completo. Come si chiama il tuo bimbo o la tua bimba? Siria, è a 14 anni. Siria. Ecco, la salutiamo? Certo, ciao amore. Mandale un bacio sia a lei, alla bimba. Non voglio vedere mia figlia, no. Che al tuo marito, vai, salutali, vai. Ciao Angelo, ti amo da morire. E abbiamo qua anche un altro ragazzo che festeggia l'addio al celibato. Ciao, il tuo nome? Enrico. Con chi ti sposi e da dove vieni? Valentina. Da mia moglie che la amo tantissimo. Da dove vieni? Da Lodi. Subito anche per te, un pregio e un difetto di Valentina? Allora, un pregio che è veramente buona o un difetto che è veramente precisa? È veramente precisa. Quando vi sposate? 20 luglio. Siete tutto pronto? Sì. Ma vai così al matrimonio? No, così vorrei andare ma non si può. Hai preferito cambiare? Diciamo solo il colore. Vai, facciamo cambio. Vai, metti sul te il cappello, vai. Solo una domanda sul tuo matrimonio. Voglio uno scoop. Sei pronto? Si mangerà carne o pesce al matrimonio? Allora, si mangerà sia carne che pesce perché noi siamo equivalenti. Quindi siamo sia carne che pesce. E quindi qualcuno se vuole l'amore o l'odio, siamo tutti e due. Quindi sarà una grande giornata di festa. La salutiamo e le mandiamo un grande braccio? Ti amo Valentina, ti amo tantissimo. Ciao! Te lo ridò perché ho caldo. Grazie. Grazie. Grazie.